Siamo partiti! Direzione del Monte Guglielmo per fare una ciascolata. Dopo qualche peripezia nella strada per salire siamo riusciti a parcheggiare e a imboccare il sentiero per il Guglielmo. Guardate che vista da qui, siamo ancora in basso, c'è tanta neve, tantissima neve anche a quote basse. Siamo usciti dal bosco o siamo immersi nella nebbia, quindi il bello di avere un po' di visuale purtroppo ce la sta negando perché questa nebbia è abbastanza fitta, vedete non ci vedete quasi niente. Grazie! 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 Grazie!